Sì, l'Olimpiade è un traguardo per ogni atleta, ogni sinfo è anche un punto di partenza e senz'altro è anche un'esperienza bellissima da vivere, oltre a incontrare persone che hanno la tua stessa disabilità è anche un confronto che è importante per portare all'accettazione della propria diversità. Buongiorno alle lettrici e lettori di Bergamo News, oggi abbiamo il piacere di avere ospiti Lara Galbusera, capitana della Nazionale Italiana di Volley Sorde e il mister Igor Trocchi, allenatore della Nazionale Italiana di Calcio Sordi. Sono in partenza per il Brasile, quindi doppio grazie per la vostra disponibilità, andranno alle Olimpiadi dedicate alle persone con una sordità. Ilaria non è alla sua prima Olimpiade, è alla sua quarta, esordio invece per Igor Trocchi. Ilaria, per te l'emozione è ormai nota, cosa ti aspetti da queste Olimpiadi brasiliane a livello personale e a livello di squadra? Essendo alla mia quarta Olimpiade, l'emozione è veramente tanta e anche molto oggettiva. La quarta Olimpiade è sicuramente anche la conclusione di una carriera, dico conclusione perché forse, le dico forse, saranno anche le mie ultime Olimpiadi e quindi le aspettative sono anche molto alte. Siamo una quadra ben solida, ben formata. Siamo state vice campionesse mondiali, l'hanno corso, per soli due punti, contro la Turchia, quindi diciamo che c'è una buona aspettativa di fare un buon risultato, speriamo. Siete anche vice campionesse olimpiche di cinque anni fa, campionesse d'Europa nel 2019, tra l'altro tu hai messo per terra l'ultimo punto in quell'anno. Il tuo obiettivo minimo di questa Olimpiade qual è? Sicuramente arrivare tra le prime tre, di portare a casa una medaglia e poi non so di quale colore sarà, però l'obiettivo è quello. Mister, per lei prima esperienza in una Olimpiade, cosa si aspetta dopo che vi eravate qualificati per i mondiali, il Covid ve li ha fatti saltare, adesso c'è una grandissima manifestazione a cui partecipare e far valere il vostro valore. Che squadra siete e cosa vi aspettate da questa manifestazione? Noi, al contrario di Ilaria che è abituata a questi palcoscenici, siamo una squadra in realtà nuova, molto ringiovanita rispetto a quella di tre anni fa, quindi sarà anche la gestione delle emozioni e l'equilibrio che farà la differenza. Noi dividiamo, quello che dico ai ragazzi è che dividiamo un sogno, che è la medaglia, da un obiettivo che è entrare nelle prime otto, quindi qualificarsi al girone e poi giocarci le nostre carte, vedere di che pasta siamo fatti nella fase finale. I ragazzi come stanno? Sono emozionati, carichi per questa esperienza? Sì, abbiamo parecchi che come me fanno l'esordio in questa manifestazione così importante, c'è emozione ma c'è tanta voglia di far vedere che ci siamo preparati bene, che siamo un bel gruppo e che stiamo costruendo anche per il futuro. Ecco voi, oltre ad essere gli unici bergamaschi a parte per le Olimpiadi, avete un'altra cosa in comune che è un'onorificenza assegnata dal Presidente della Repubblica ed è sostanzialmente dove voi vi siete conosciuti e dove si è creato un percorso ancora più comune tra di voi. Chi vuole raccontare com'è andata quella giornata? In realtà, dicevamo prima che sono passati quattro anni da quando abbiamo ricevuto questa onorificenza ed essendo gli unici bergamaschi naturalmente, è stato automatico fare subito amicizia e ci siamo conosciuti, ci siamo sentiti, ci siamo sentiti, esatto, e poi ci siamo conosciuti per la prima volta lì a Quirinale e naturalmente lui essendo un allenatore e io una pallavolista gli ho dato un po' di informazioni sulla nostra realtà e la curiosità da parte sua era tantissima e quindi mi è venuto diciamo naturale presentarli nella nostra società e nella nostra realtà e poi una volta conosciuta la realtà il direttore tecnico mi aveva proposto di fare l'allenatore dell'Under 21 però poi poco dopo il Cittadino nazionale che era in carica in quel momento ebbe un impegno di lavoro molto importante, dovete lasciare la squadra proprio pochi giorni prima dell'Europeo e quindi subentra io e poi per fortuna le cose andarono bene ci qualificamo per il mondiale vincendo le prime tre partite e insomma la storia continua tuttora grazie alla mia procuratrice Nonostante i grandi risultati, le medaglie per la nazionale di volley e le qualificazioni prestigiose per quella di calcio il vostro è un settore che fatica a trovare spazio, fatica a farsi conoscere parlavamo prima dell'intervista con voi, siete gli unici bergamaschi anche in squadra non ci sono giocatrici o giocatori perché forse il movimento ha bisogno di un po' più visibilità Cosa vi sentite di dire a un ragazzo che potenzialmente, o una ragazza che potrebbe far parte delle vostre squadre per farsi avanti, prendere coraggio e partecipare a questa esperienza che può portare anche a un'Olimpiade che comunque non è una cosa che si affronta tutti i giorni Sì, l'Olimpiade è un traguardo per ogni atleta, ogni cinque, forse anche un punto di partenza è senz'altro anche un'esperienza bellissima da vivere oltre a diciamo incontrare persone che hanno la tua stessa disabilità è anche un confronto che è importante per portare diciamo all'accettazione della propria diversità è un'esperienza bellissima sportiva ma anche sociale e ci tengo a sottolineare sociale perché permette appunto l'inclusione di tutti gli atleti in una realtà che non è altro che è accessibile a 360 gradi ma soprattutto anche un'inclusione sportiva che porta appunto a una piena realizzazione di se stessi Poco aggiungerei rispetto a quello che ha detto lei perché chi meglio di Ilaria è la dimostrazione vivente di che una persona con la sua disabilità comunque si toglie soddisfazioni che udenti non riescono a togliersi quindi fa diventare la sua disabilità il suo punto di forza e questo è una cosa meravigliosa Il riconoscimento al movimento passa magari anche da una maggiore considerazione a livello pubblico e istituzionale voi da questo punto di vista vi aspettate magari qualcosina in più un po' di attenzione in più Ma sì in effetti ci sentiamo comunque su due livelli diversi Ti faccio un esempio Sofia Goggia è stata accolta all'aeroporto di Malpensa dal nostro sindaco Gori e noi non siamo invidiosi però abbiamo qui una campionessa del mondo che invece è sempre tornata da sola da tutti i viaggi che ha fatto pur avendo avuto le stesse vittorie di Sofia Goggia quindi noi non è che pretendiamo che Gori non vada a prendere Sofia Goggia però neanche di essere messi su due livelli diversi perché poi tutti si sciacquano la bocca con le disabilità ma quando poi c'è bisogno nessuno fa nulla anzi così ci sentiamo comunque atleti di Serie B Ecco noi rimane poco altro da aggiungere se non farvi un grosso in bocca al lupo per i rispettivi percorsi so che avete dei gironi non facilissimi già dalle qualificazioni però con questa determinazione sappiamo che potrete arrivare lontano un grosso in bocca al lupo ancora da parte nostra e speriamo che il movimento possa crescere anche in una realtà come Bergamo Io se posso prima di Ilaria vi ringrazio perché date sempre spazio a questa notizia che non è proprio così banale perché fare delle Olimpiadi non è da tutti come diceva Ilaria è il massimo raggiungimento per un atleta e quindi ringrazio la Bergamo News e spero di ritornare con Ilaria con in mano una medaglia e insomma vi ringrazio ancora Io vi ringrazio anche dopo tutto quello che ha detto lui e aggiungo anche che vi ringrazio per averci seguito in questo percorso noi ormai ci conosciamo da 8 anni circa ed è bellissimo avere il vostro appoggio per dare visibilità a una realtà che è spesso conosciuta ed è importante diciamo per sensibilizzare anche sulla sordità una disabilità invisibile di cui si parla veramente poco quindi grazie a voi facciamo anche più rumore